Hai mai sentito parlare della strategia di investimento selling may and go away? Sai cos'è la stagionalità? In questo video vedremo insieme il confronto tra i ricavi ottenuti investendo affidandosi a un famoso detto di borsa e quelli ottenuti invece con l'uso consapevole del trendicator di rendimento fondi. Ciao da Giuseppe, la stagionalità si presenta quando le quotazioni delle asset class manifestano lo stesso trend direzionale in periodi diversi ma in riferimento allo stesso arco temporale. Il fenomeno della stagionalità è un fattore intrinseco di molte materie prime. Infatti fenomeni climatici e meteorologici, scandendo periodi di abbondanza e di scarsità creano fluttuazioni ripetitive nelle quotazioni. Queste stagionalità si verificano a causa della rotazione dei cicli produttivi per commodities agricole come il grano, la soia, il mais, eccetera ma anche a seguito della variazione delle temperature dei combustibili come il petrolio, il metano e gas utilizzati per il riscaldamento. Per chi volesse approfondire il legame tra la stagionalità dell'oro e delle borse sul sito c'è un articolo di gennaio molto interessante e il link lo trovate qui sotto in descrizione. Tuttavia, identificare possibili pattern ripetitivi quando si tratta di indici, fondi, azioni e obbligazioni è molto più complesso perché entrano in gioco valutazioni economiche soggettive. Come si osserva dal grafico, ad esempio l'indice azionario italiano Fuzzimib ha fatto registrare rendimenti medi tendenzialmente in discesa durante la stagione estiva e autunnale per poi manifestare recuperi a partire dai mesi invernali fino al picco dei ritorni in aprile. Analizzando l'andamento di molte asset class, soprattutto legate al mercato azionario si è dato vita ad alcuni famosi detti borsistici che riflettono i metodi di investimento stagionali come Santa Claus Rally, Easter Rally, Selling May and Go Away appunto. Riguardo proprio quest'ultimo detto, spesso gli analisti hanno mostrato come tendenzialmente il mese di maggio si è associato a crolli dei prezzi azionari che durano fino ad Halloween, l'ultimo giorno di ottobre. Di conseguenza le loro previsioni hanno spesso suggerito di rimanere liquidi durante le stagioni estive e autunnali e di reinvestire solamente nel periodo tra novembre e aprile. In questo video quindi andiamo a capire quali sono le motivazioni sulle quali si basa questo assunto. Presumibilmente l'arrivo dell'estate, l'innanziamento delle temperature e l'inizio delle ferie lavorative dovrebbero rendere gli investitori più propensi a concedersi vacanze e soggiorni turistici. Per questo motivo gli agenti economici potrebbero monetizzare i loro investimenti per finanziare le cresciute spese, facendo diminuire così le quotazioni, i volumi e generando maggiore volatilità. Ma seguendo il motto stagionale di investendo i nostri risparmi solo nel semestre da novembre ad aprile quanto avrebbe reso la nostra strategia? Nella tabella che state vedendo ora ci sono i risultati per il Futsimib, lo Standard & Poor's 500 e l'Eurostoxx 50. Complessivamente, considerando il periodo 2009-2020, la strategia stagionale ha generato rendimenti medi semestrali positivi sui tre indici, sopportando però un'elevata volatilità. Tuttavia un attento osservatore terrebbe a mente che queste performance corrispondono solo a una metà della medaglia. Infatti la logica dell'investimento presuppone sempre di considerare i costi opportunità. Quanti soldi ci saremmo persi rimanendo liquidi nel semestre maggio-ottobre? Scopriamolo insieme. Nella tabella che state vedendo ora abbiamo riportato in rosso i profitti semestrali a cui avremmo rinunciato e in verde le perdite che avremmo evitato. Già a colpo d'occhio si vede che non avremmo fatto un grande affare. In quest'altra tabella abbiamo semplificato i numeri e riportato i rendimenti medi semestrali come in precedenza. Mettendo a confronto le due tabelle possiamo osservare come la strategia vendiamaggio e scappavia abbia funzionato discretamente bene per i Fuzzimib, promettendo guadagni medi dell'1,77% e risparmiando perdite mediamente dell'1,39% ogni semestre, a fronte però di un'eccessiva volatilità assolutamente da non sottovalutare. D'altro canto questo adagio ci ha costretti mediamente ogni semestre a rinunciare a profitti del 4,74% sullo Standard & Poor's 500. È bastata questa semplice analisi per comprendere come la stagionalità, fisiologica per le commodities, è difficile da riscontrare per il mercato azionario e potrebbe condurre a metodi di investimento troppo rischiosi e non basati sui fondamentali. Lo studio dei fenomeni stagionali non può prescindere da un contestuale monitoraggio delle condizioni macroeconomiche. I seasonality pattern hanno maggiori probabilità di verificarsi se supportati da un trend di lungo periodo che ne assecondi la direzione ipotizzata a priori. Confrontiamo ora questi dati con quelli ottenuti tenendo conto invece del trendicator. La stagionalità può avere potenziali tali non indifferenti e storicamente ha portato comunque a risultati notevoli. Se però la accompagniamo con una strategia che ci indichi esattamente quando investire e quando disinvestire, tutto diventa meglio. Vediamo quindi all'opera il trendicator sull'indice azionario americano. Il grafico che state guardando ora è riportato l'incremento del valore di un portafoglio iniziale di 10.000 euro investito nello Standard & Poor's 500 ad inizio 2009, seguendo la lettera ai segnali di buy and sell suggeriti dal trendicator. All'11 maggio 2021 il portafoglio avrebbe avuto un valore di circa 19.300 euro, holding period return del 93%, a fronte di una volatilità davvero molto contenuta. In conclusione concedetemi una piccola riflessione sulla situazione attuale. Le previsioni vedono il PIL globale in crescita, ingenti afflussi di liquidità promossi dalle politiche monetarie ultraespansive e c'è da tenere conto delle misure di contenimento della pandemia ancora attive e stringenti in molti paesi. Vendere in maggio potrebbe essere la strategia vincente, negli ultimi giorni infatti il momentum è calato. Tenete tuttavia conto delle condizioni straordinarie che stiamo vivendo in questo periodo prima di prendere importanti decisioni di portafoglio. Proprio per questo rendimento fondi ti mette a disposizione Trendicator gratuitamente per bene una settimana. Basta cliccare sul link qui sotto in descrizione per ottenerne l'accesso insieme a un sacco di altri servizi. Buon rendimento fondi a tutti!